Il parcheggio Era nato in una pozzanghera, ai margini del parcheggio del cinema all'aperto Lungolago, insieme ai suoi quattrocento fratelli e sorelle. Si chiamava Zazà, Zazà Punzecchi. Sua madre aveva deciso di chiamarlo così perché aveva già un figlio di nome Zà, ed era stufa di inventare nomi sempre diversi. A soli quattro secondi di vita, Zazà aveva preso il volo dalla navicella di Uova in cui era nato con i suoi fratelli e sorelle. Ma subito dopo era caduto in acqua, rischiando di affogare. Vedendo il minuscolo schizzo sull'acqua, sua madre era scesa impicchiata per asciugargli le ali, così che potesse raggiungere in volo le zanzare nanate che già si vibravano sopra la grande puse da pozza.